Da 50 anni nella sicurezza antincendio L'agenzia parmense Antincendio viene fondata nel 1960 da Luigi Gallina, dando così vita alla prima azienda di prevenzione incendi a Parma. APA concentra le sue energie nelle attività di manutenzione, come progettazione ed installazione di attrezzature in pianti antincendio, fornitura di protezioni attive e passive, di DPI e materiale pompieristico, dando così un contributo concreto e professionale alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie al laboratorio interno, APA effettua manutenzioni periodiche ai dispositivi di protezione individuale della MSA, come autorespiratori e maschere a filtro. Altro punto di forza dell'azienda è quello di avere creato al suo interno un centro di collaborazione per la formazione di squadre di emergenza aziendali. Iscritta al gruppo manutentori UMAN Confindustria, APA si è sempre impegnata nell'offrire prodotti affidabili e un servizio preciso. Il personale ha ottenuto l'attestato al corso di formazione per tecnici manutentori UMAN, Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre a seguire costantemente corsi di aggiornamento presso enti e aziende del settore antincendio. APA esibisce infine con orgoglio l'appartenenza al gruppo CEA Servizi e le seguenti certificazioni ISO 9001-2000 dal 2003, ISO 9001-2008 dal marzo 2010 ed è azienda certificata gruppo CEA Servizi, gruppo certificato ISO 9001-2000, rappresentando uno dei 33 centri assistenza qualificati e certificati d'Italia. A presto! A presto!